Ciao ragazzi, come punti? Vabbè dai, non ero un'entrata vicente però siamo tornati oggi, bello a tutti vi saluto e oggi ho portato un altro circuito di petto, non perché alcuni mi dicono vabbè te fai sempre bello tutte queste cose qua, ma non è così, è che me li chiedono quindi quando mi chiedono gli esercizi voglio sempre portare e soddisfare quelli che mi seguono e insomma in questo circuito faremo... mi stai fermando? io non lo so anche questo era un po' nooo ma che povera! ma che povera! ma che povera! ma che signora qua? che è questo? ma questo è un circuito che sto facendo, ma che povera! facciamo volare su te lo vuoi fare? nooo no 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 ragazzi è venuto questo qui, ma non so neanche che cosa ci fa a casa mia con questo pappello se non preseva di voi non c'è la solitaria e stavo dicendo che in questo circuito faremo ma allora è un circuito per... che c'è? che stai facendo? mi devo restare fa come se fosse casa due e stavo dicendo di nuovo fare e è qui qui è qui io 5 e andiamo con l'egra di scienza giù 5 e andiamo con l'egra di scienza 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 6 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 e andiamo con l'egra di scienza